Ben ritrovati da meteoincalabria.it Insiste una fase di tempo stabile piuttosto caldo per la stagione. Un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale avvolge buona parte dell'Europa centro-meridionale. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la nostra regione. Oggi condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperatura stazionaria con rilevante escursione termica nelle zone interne tra le ore notturne e quelle centrali della giornata. Domani cielo sereno poco nuvoloso con tendenza a parziale nuvolamenti di tipo stratificato sotto forma di velature che potrebbero solcare i cieli del settore centro-settentrionale della regione. Temperatura pressoché stazionaria. Passiamo ai mari e venti. Oggi venti calmi sul Tirreno ed Alto Ionio con mare calmo. Ancora residua ventilazione da nord-est sul settore ionico catanzarese e reggino con mare poco mosso. Domani mari calmi ovunque con ventilazione assente o deboli di direzione variabile. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie, arrivederci a domani.